allora oggi vi parlerò di me di una vicenda vecchia di 59 58 anni fa era il 5 gennaio del 1962 chi non è interessato può staccare parlo veramente di me era il 5 gennaio del 1962 avevo 5 anni e 9 mesi perché io compio gli anni il 29 marzo e facevo già la prima essendo andato a scuola un anno prima urbene era il giorno prima della befana andai da mia sorella e le dissi senti io sono arrivato alla conclusione che la befana non esiste ci avevo pensato era un ragazzo riflessivo già allora ci avevo pensato ed era arrivato a questa conclusione mia sorella più piccola di me di un anno iniziò subito a gridare che io stavo facendo peccato mortale corse da mia madre e le disse ma fiorenzo ha fatto peccato mortale non crede alla befana a che mia madre venne da me mi prese in disparte mi disse fiorenzo sì in effetti hai scoperto che la befana sono mamma e papà e quindi siccome ormai sei diventato grande e la befana cioè mamma e papà non ti portano più i regali perché questo regalo della befana si fa ai bambini piccoli che ancora ci credono quindi domani tu non troverai i regali mentre invece tua sorella sì la cosa non mi fece affatto piacere e così andai a dormire con un grave senso di tristezza e siccome c'era la porta aperta fra la mia stanza e la stanza dei genitori mia madre mi raccontò che mi aveva sentito per ore durante la notte rigirarmi nel letto sospirando e in effetti era proprio così ero veramente disperato per il fatto di non avere i regali il giorno dopo ma non mollai ero convinto che la befana non esistesse più volte mia madre avrebbe voluto alzarsi per venire a consolarmi e dirmi che come voi avrei scoperto la mattina seguente il regalo e che regalo c'era anche per me ma mio padre glielo impedì e fece benissimo mio padre con il quale ho avuto aspri contrasti per tutta la vita salvo nella parte finale quando lui si era un po ammorbidito ed io ero maturato mio padre fece benissimo affermarla la mattina dopo mi alzai moggio moggio e seguì mia sorella in cucina lei doveva trovare il regalo e io niente e invece il regalo c'era anche per me due magnifici due magnifici sci per me e per mia sorella due magnifiche paglia di sci per me e per mia sorella uno slittino per entrambi insomma grande fu la gioia e insomma mia madre mi prese in giro a lungo ma mia sorella rimase convinta che la befana esisteva e infatti da da quella vicenda in poi i percorsi diciamo esistenziali culturali la visione del mondo mia e di mia sorella si sono nettamente divaricate lei è rimasta sostanzialmente come dire ha scelto la via della del credere e io invece sono sempre rimasto in tutte le vicende uno scettico e quindi anche in questa occasione quindi adesso parliamo un po dell'attualità del coronavirus nonostante il battagio propagandistico tutto questo in questa mobilitazione dei media io continuo a rimanere scettico magari ho torto oppure magari dopo aver attraversato un lungo periodo in cui mi sentirò isolato una mosca bianca insieme a poche altre che non non se non riescono ad accettare questa narrazione e credono io credo che ci sia altro in gioco che non un'epidemia e magari dopo questo periodo ci sarà come 58 anni fa la sorpresa di un magnifico paio di sci rossi fiammanti oppure forse questa volta dovrò ricredermi e avere torto ma in passato avendo esercitato questo mio scetticismo in tantissime occasioni devo dire che ci ho sempre azzeccato e mi sono invece sbagliato in quelle poche occasioni in cui questo spirito critico scettico si è come addormentato per esempio ne dico una sola quando ci fu l'episodio delle torri gemelle e io tardai in quell'occasione ad accettare non dico a credere ma ad accettare l'ipotesi che quello fosse potesse essere un false flag oggi questi questa ipotesi non dico che viene considerata da tutti ma comunque è diciamo a una sua plausibilità ecco in quell'occasione il mio scetticismo si era un po addormentato bene io vi saluto vi ho raccontato questa storiella della mia vita e alla prossima nell'attesa di capirci qualcosa di più bene io vi ho raccontato questa storia